Buongiorno, oggi mi trovo sulla provincia di Rovigo e abbiamo appena installato questa porta scorrevole esterno muro. Il modello tulipano è una porta scorrevole completamente in vetro, non ci sono codici, il sistema scorrevole che è il nostro sistema serglas, velita in alluminio e il vetro scorre a due centimetri dalla parete, cioè praticamente poco più di un metro. In questo caso qua è stata realizzata su misura, è circa un metro per due metri in pc, ma possiamo parlare anche di metri e venti, due metri e trenta, non c'è nessun problema. Vellita alluminia come stavo dicendo e maniglia trasparente, perché così non va a modificare il disegno stesso, non va anche a rovinarlo e con questa particolarità io posso adaprire e chiudere la porta. Grazie a tutti.